Maxi operazione della direzione investigativa antimafia di Genova. Sono stati eseguiti otto arresti in diverse regioni dell'Italia centro-settentrionale e 14 persone sono state denunciate in stato di libertà. Secondo gli investigatori, tutti i soggetti apparterebbero ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Nel corso del blitz sono stati eseguiti sequestri preventivi per un valore stimato in oltre 150 milioni di euro. L'operazione della direzione investigativa antimafia di Genova è stata coadiuvata dalle articolazioni di Milano, Torino e Firenze a seguito dell'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza.